Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Scorsa volta, ammetto, è stata una puntata un po' particolare, perché abbiamo risolto il mistero del villaggio dei miti con questi sogni un po' contorti, un po' particolari, che ci hanno ricompensato anche con un verso sigillato che è praticamente il mio verso sigillato preferito, ma capisco anche che non è stato un granché dal punto di vista di azione, di fermento. Oggi recuperiamo, perché abbiamo fatto questa sezione della foresta dei miti e quindi possiamo tornare indietro e informare Popola dell'accaduto. Perfetto. Per cui adesso possiamo tornare da Popola. Quindi prendiamo il nostro bel cinghialozzo. Ci sono le ombre, ma a noi non ce ne frega nulla. Tanto non è questo il momento di farmare, non vi preoccupate. Ci sarà modo di poter farmare in modo intelligente, anche se in realtà non c'è tanto da farmare su questo gioco. Si può completare tranquillamente con il livello che si fa mentre si gioca. Non c'è problema. Non c'è assolutamente problema. Non c'è problema. Esatto. Oh, finalmente possiamo andare a incontrare il tizio che mi sblocca il teleport, tra virgolette. Sarebbe una sorta di teleport dove appunto avremo la possibilità di viaggiare tramite le barche e quindi andare in zone diverse perdendo meno tempo. Esatto. Side quest non ne abbiamo per il momento, almeno qua. non mi ricordo se adesso finalmente mi sblocca le altre side quest della pesca. Perché era forse questo il momento dove mi sbloccava le altre side quest della pesca. Non ci penso proprio in realtà. non me lo ricordo proprio. Non me lo ricordo proprio. Eccolo lì. Eccolo lì. Questo è il nostro uomo. Ma prima voglio vedere se il tizio finalmente mi fa fare la pesca. No, ancora no. Oh, ma stranissima sta roba. No, ancora no. la mia polpettina è un po' di più. Allora, io mi prendo anche a cercare. E? Sì, è vero? Sì. Non c'è un posto di mia moglie. No. Ma solo, la mia moglie è sempre in un uomo, e la mia moglie è sempre bella. Allora, io mi raccomando a parlare di lui. Grazie a tutti Grazie a tutti La signora che ci prova Dai, siediti qui Bevi una o cinque cose Così, subito, easy Grazie a tutti Ok E adesso andiamo a cercare La tizia Esatto La moglie a quanto pare Grazie a tutti 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 Ecco, sono tornati Perfetto E quindi Andiamo Andiamo, andiamo Grazie a tutti Quindi Qui prendiamo Grazie a tutti 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 Possiamo Perché Grazie a tutti Poi la prossima Se volessimo Grazie a tutti Che mi deve Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah, quali Grazie a tutti Perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Kainé Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vedete Ehm, ci Qui Sentite a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Le statu Grazie a tutti 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 Esatto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In realtà Grazie a tutti Ci sono tutti Grazie a 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 tutti